C'erano i lavoratori in trasferta che facevano ritorno a casa, chi partiva per un lungo weekend e poi c'era chi festeggiava l'addio celibato. Almeno una settantina i passeggeri che hanno inaugurato il volo Foggia-Catania questa mattina. E' endusiasmo alle stelle all'aeroporto Ginolisa di Foggia dove alle 9.30 puntuale è decollato il volo verso la Sicilia. La tratta si aggiunge alle altre già operative di Milano e Torino e alla penultima tratta di Verona che ha visto il suo primo volo. Lo scorso 22 maggio. Un flusso di passeggeri importante, quello di oggi, in occasione del primo volo verso Catania. Soddisfazione di aeroporti di Puglia che vede continuare il successo dato dai numeri che arrivano dallo Scalo Foggiano, ma anche soddisfazione per la Lumi Wings che continua a regalare esperienze che sembrano dimenticate. La compagnia aerea greca che pare sia lavoro anche per nuove tratte che presto potrebbero essere presentate alla cittadinanza, tratte che aprirebbero nuovi scenari e orizzonti, anche economici. L'attesa ora è per la stagione estiva del Gargano che spera in un vero e proprio espload di passeggeri che potranno scegliere lo Scalo Foggiano per poter visitare o trascorrere le loro vacanze sul Gargano e continuare così, perché no, il successo dell'aeroporto Ginolisa che è ritorno operativo e attivo dopo lunghissimi anni di silenzio. Soddisfazione e contentezza si è registrata anche in Sicilia all'atterraggio del primo volo Foggia-Catania per il nuovo collegamento che accorcia le distanze tra la Capitanata e la Sicilia dopo 11 anni con la soddisfazione soprattutto dei passeggeri che potranno raggiungere la Sicilia in un'ora di volo.